Una buona giornata ed un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. Sulla FIPILI per lavori due chilometri di coda tra Ginestra Fiorentina e Lastra Assigna in direzione Firenze. Possibili disagi anche sulla carreggiata opposta in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento a 1 di Firenze in Pruneta. Sul raccordo Siena-Bettolle scambio di carreggiata in direzione Bettolle tra Casetta Monte Aperti e Castelnuovo-Berardenga. Ricordiamo che oggi è in vigore uno sciopero nazionale del trasporto pubblico locale con disagi per quanto riguarda bus e tramvia. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!